Un buongiorno a tutti, bentornati, episodio numero 3 del corso di JQuery, quest'oggi parliamo degli eventi. Allora, gli eventi sono un'altra parte importante di JQuery, in realtà JQuery è formato da eventi e selettori, quindi succedono degli eventi su determinati elementi, ok, che prendiamo tramite dei selettori e andiamo a fare delle azioni. Questo è di base JQuery, io qua ho preparato già un div con una certa classe, un bottone da cliccare e un input text, andremo a fare delle cose. Gli eventi altro non sono che delle cose che succedono quando l'utente fa certe cose, potrebbe essere un click, un doppio click, potrebbe essere l'utente che entra in un campo, che esce da un campo, potrebbe essere l'utente che fa invia su un form, potrebbe essere un utente che scrolla, potrebbe essere un utente che preme qualcosa di particolare sulla tastiera. Quindi abbiamo qua una lista di alcuni degli eventi, vedete click, mouse enter, mouse leave, focus, keypress, submit, change, focus l'avevo già messo, scusatemi, blur, scroll e ce ne sono altre, la documentazione ve li mostra tutti e questi sono alcuni dei più usati. Il risultato attualmente è il seguente, vedete ho un bottone cliccami, un div nero e un input. Allora, vediamo brevemente, cominciamo dal più semplice che è il click, quindi andiamo a prendere il bottone e facciamo dollaro, button, facciamo button così, punto, click, apriamo, dobbiamo fare una funzione, quindi function, facciamo così e quello che andiamo a fare qua dentro è semplicemente fare un console.log e scriviamo sono stato cliccato. perfetto. Allora andiamo di qua, apriamo qui, apriamo un pochino, clicchiamo, vedete sono stato cliccato, si vede? Yes. Continuo, ogni volta che clicco, se clicco altrove non succede niente, ok? Se clicco sul bottone vedete che continua a darmi, sono stato cliccato. Questo è un evento, evento molto più semplice che è il click. Andiamo a fare invece un esempio sul div, quindi prendiamo il div e possiamo fare mouse enter, così come possiamo fare mouse leave, quindi facciamolo doppio, mouse enter e mouse leave, sono entrato nel div, sono uscito dal div. Non solo, voglio fare una cosa che vi spiegherò più avanti, quindi facciamo dollaro dis, ok? Punto css e mettiamo background color, facciamo virgola e mettiamo red, ok? Mentre invece all'uscita facciamo yellow, va bene? Una cosa che non vi ho spiegato nei selettori precedenti, che ho aspettato apposta, è this. Ho aspettato in queste situazioni, quindi per farlo vedere apposta su un evento. Allora che cos'è this? Vedete che è un selettore particolare, non richiede, è come se fosse una variabile, è come se noi usassimo qua una variabile del genere, questa variabile è uguale a qualcos'altro. Quindi questo dis fa riferimento all'oggetto, all'elemento dell'evento. Quindi in questo caso è div, vedete, questo div mouse leave. Quando entro col mouse sul div, in questo caso sul quadrato, mi scrivi che sei entrato nel div. Non solo, mi prendi this, questo, ma questo cosa? Questo elemento che ha subito l'evento, ok? E mi cambi il colore. Andiamo a vedere. Eccoci qua. Bam, avete visto? Sono entrato nel div. Sono uscito dal div. Quindi mouse enter, mouse leave. Mouse enter, mouse leave. Mouse enter, mouse leave. Vedete? Posso continuare all'infinito, posso continuare all'infinito, continua a mandarci a schermo. Sono entrato, sono uscito e continua a cambiarci il colore di background. Non vi spiego CSS, anche se è abbastanza semplice, perché ne parleremo in un altro video. Comunque, this, adesso sapete che cos'è e ho appunto aspettato di usare gli eventi, perché solitamente lo usate negli eventi in modo che vi passa, vi viene passato l'elemento, per cui potete richiamarlo facile. Quindi vediamo velocemente invece focus. Focus serve per i campi, quindi se noi prendiamo i campi, prendiamo l'input, facciamo input, focus, ma sì, possiamo togliere, ma sì, possiamo far così, non è un problema. E facciamo blur, quindi faccio vedere insieme focus e blur. E poi vi metto anche change a sto punto, quindi facciamo tutte e tre insieme. E scriviamo. Ho cliccato nel campo. Sono uscito dal campo. Ok, quindi ho cliccato fuori dal campo. Ho cambiato il testo del campo. E qua invece non ci interessa blur, ma ci interessa change. E come background lo mettiamo magari blu. Allora, vediamo un attimo questi eventi e poi ve li spiego. Quindi sono focus, blur, and change. Andiamo qua. Focus. Vedete, ho cliccato nel campo. Sono uscito dal campo perché ho cliccato fuori, vedete? Vedete, sono uscito dal campo. Oppure, vedete, ho cliccato, sono uscito. Ho cliccato, sono uscito. E qua non succede niente. Se però metto del testo, attenzione. Vedete, sia sono uscito dal campo e ho cambiato testo dal campo. Se io torno qua dentro ed esco, sono uscito dal campo. Se io entro e cambio testo, ho cambiato il testo del campo e sono uscito dal campo. Allora, che cosa succede? Andiamo a vedere. Quando io clicco dentro il campo per andare a inserire qualcosa, parte il focus. Ok? Quindi parte il focus. Focus è quando noi ci focussiamo su un elemento in particolare. Un altro modo in cui potremmo usare focus è col tab. Se noi siamo da PC potremmo usare tab. Guardate. Vedete che sto passando in rassegna. Vedete, prima compaio qua in URL. Poi faccio tab. E va qui. Poi vado avanti. Quindi, se mi metto qua su cliccami, guardate, vedete, che passa da una parte all'altra. Mi dà, ho cliccato e sono uscito dal campo. Quindi il focus vale anche per il tab se siete da PC. Altrimenti per i campi vale se cliccate dentro il campo. Blur, ovvero quando uscite. Quindi sarebbe sfocato. Quindi prima siete in focus. Il contrario del focus è la sfocatura a livello di lenti, quando parlate di una telecamera. Quindi blur quando uscite dal campo. O col tab andate oltre. E poi c'è change. Quando cambiate, il valore di un campo potrebbe essere una select, quindi un menu a tendina. Potrebbe essere una radio, una checkbox. Potrebbe essere quello che volete. In questo caso mi tornava comodo l'input. Quindi nel momento in cui io esco dal campo ma cambio il testo, me lo dà come change. Vediamone magari ancora uno. Vediamo magari on keypress. Quindi potremmo fare document on keypress. Ok, quindi semplicemente quando stiamo premendo qualcosa e facciamo. Ho schiacciato un tasto da tastiera. Ok. Andiamo qua. Ok, vedete? Ho premuto E. Premo F. Premo C. XXXXXX. Se premo qualsiasi altra keyword, guardate. Qualsiasi altra keyword per scrivere qualcosa. Schrivo qua dentro. Bam 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 bam. Vedete che continua? Ho schiacciato un tasto e continua all'infinito. Ok. Questo potrebbe essere keypress. Ma c'è anche keydown quando teniamo premuto. O keyup quando rilasciamo. Quindi keypress è in generale. Se no c'è keydown o keyup. Un altro evento potrebbe essere on load quando è caricato. Se magari il documento è caricato. Non è pronto ma è load. È solo caricato. Non è pronto. Però voglio farvi vedere un'altra cosa. Ovvero voglio tornare al discorso di prima. Quindi vogliamo prendere sempre un input. E vogliamo mettergli più cose. Vedete? Gli abbiamo messo on blur. Gli abbiamo messo focus. Blur. Change. Abbiamo messo un insieme di eventi. Ok. Però sono tutti staccati bene o male. Sono tutti staccati. Lo vediamo che sono sempre di input. Perché abbiamo pochi eventi al momento. E ci risulta molto semplice leggere input. Ma ne potremmo avere più eventi sullo stesso bottone in particolare. O su più bottoni. O su più selettori. E vogliamo raggrupparli. Possiamo farlo? Assolutamente sì. Utilizzando on. Quindi io faccio così. Vado a prendere sempre il mio input. Ma anziché scrivere ogni volta focus, blur, eccetera. Faccio punto on. On vuol dire su. Quindi su che evento. E vi faccio vedere. Adesso dobbiamo semplicemente andare a scrivere. Come se fosse uno switch. Se avete presente JavaScript. Gli switch. Ci basta fare focus. Focus. Vedete? Due punti. E andiamo a mettere la funzione che ci interessa. Quindi function. Apriamo. E facciamo così. E poi mettiamo virgola. Andiamo a capo e facciamo blur. Due punti. A questo punto copiamo qua. E poi ancora. Sistemiamo. Ho scritto blu e non blur. Ok. E poi ancora possiamo fare a capo. Facciamo change. Due punti. Function. Formattiamo. E dentro andiamo a metterci qualcosa. Ma cosa mettiamo? Mettiamo esattamente le stesse cose. Quindi facciamo così. Poi facciamo così per il blur. E poi per il change. Copiamo qua. Eliminiamo. Tutta questa zona. Per far vedere che funziona esattamente allo stesso modo. Formattiamo. Quindi abbiamo fatto un on dicendo che su questo input particolare. In questo caso su tutti gli input. Ma noi ci stiamo riferendo a uno in questo caso. Potremmo essere più specifici in un esempio. Quindi con un id. Con una classe. Con quello che volete. Stiamo dicendo su questo elemento specifico. On questi eventi. Fai determinate cose. Vedete com'è molto più pulito rispetto a prima. Quindi on sicuramente può tornare molto utile. Per pulire il codice. Quindi andiamo a vedere il risultato. E vi dimostro che è lo stesso discorso. Vedete. Ho cliccato. Sono uscito. Ho cliccato. Ho modificato. E sono anche uscito. Va bene. Quindi. Questo di base è il funzionamento degli eventi. Abbiamo visto qualche evento. Abbiamo visto il metodo on. Direi che adesso se fate un po' di pratica. Sapete. Come muovervi con gli eventi. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Io vi ringrazio. In descrizione vi ricordo il mio sito. CodeGran.it L'abbonamento se volete farlo al canale. Oppure Telegram per restare informati. Che fa parte della community. Vi ringrazio ancora. E alla prossima. Ciao ciao. Ciao.